ciao oggi voglio parlarvi di un prodotto nuovo che è entrato in catalogo non ce l'avevo da farvelo vedere ma adesso mi è arrivato e ve ne parlo perché secondo me è un prodotto veramente molto molto valido e sto parlando della nuova ecobottiglia premium con cannuccia allora questa è la bottiglia bellissima sembra vetro ma non è sapete che il nostro nuovissimo materiale è da 750 ml bocca larga per poter essere riempita comodamente ma la sua particolarità è proprio il tappo con la cannuccia incorporata questo è il tappo come vedete diverso da tutte le nostre ecobottiglie si apre in questo modo e qua trovate la cannuccia questo cosa vuol dire aspettate però questo è il beccuccio qui sotto c'è questo ecco qua vedete è in silicone dove va appunto infilata la nostra cannuccia ecco qui avete la cannuccia direttamente con il tappo questo fa sì che non abbiamo bisogno di sollevare la bottiglia quando andiamo a bere ma ci basta succhiare dal beccuccio potete lavarla tranquillamente in lavastoviglie ma per lavare in modo perfetto sia la cannuccia che l'inserto io vi consiglio lo scovolino per le nostre cannucce perché è perfetto lo fate entrare sia da una parte che dall'altra ed è perfetto anche per andare a pulire questo e arriva proprio fino in alto guardate esce persino dal tappino quindi possiamo veramente pulirlo in modo approfondito vedete anche da questo lato così non rimangono residui ovviamente quando non la utilizzate mettete la via col tappo aperto o senza tappo e niente questa è la nuova bottiglia che è disponibile in catalogo io vi dico l'ha acquistata una persona che conosco me l'ha ordinata infatti gli ho detto presta ma perché devo farla vedere perché la sua mamma ha un problema di deglutizione e non può sollevare la testa quindi doveva bere da un bicchiere con una cannuccia appena ha visto questa che ovviamente lui quando magari la deve accompagnare a fare delle visite o quant'altro deve sempre portarsi appresso che ne so una bottiglietta con una cannuccia piuttosto che un bicchiere con una cannuccia col rischio sempre di rovesciarla invece in questo modo essendo la bottiglia ermetica non c'è più questo pericolo appena l'ha vista mi ha detto ordina immediatamente perché è la soluzione perfetta per la mia mamma per cui ecco la nostra bottiglia è in catalogo costa 29 euro e io ve la straconsiglio perché adesso che ce l'ho in mano posso capire veramente l'utilità ma perfetta anche con i bambini piccoli in viaggio al parco da portarsi al lavoro perché no ci potete mettere l'acqua non so dirvi bibite gasate questo mi devo informare perché è un prodotto nuovo anche per me però sinceramente avendo questo tappo io lo sconsiglio perché sapete che il gas fa pressione non vorrei che scoppia quindi succhi di frutta spremute acqua tè infusi camomille tisane le potete tranquillamente mettere all'interno della vostra ecobottiglia premium ci tenevo a farvela vedere sapete che quando c'è una novità mi piace sempre parlarvene e questo secondo me è un'ottima ottima novità ciao